Mina Settembre 2. La scelta tra Claudio e Mimmo. Le riprese della seconda stagione di Mina Settembre sono terminate. Di conseguenza, nel corso della prossima stagione televisiva, i tanti fan della serie possono aspettarsi di vedere le nuove puntate, con protagonista Serena Rossi. Intanto iniziano a trapelare le prime anticipazioni, secondo cui la nuova stagione sarà quella della tanto attesa scelta tra i due uomini che Mina sembra amare. Infatti, si troverà a dover decidere tra Claudio e Mimmo. Come è stato annunciato dalla stessa Serena Rossi, le riprese della seconda stagione di Mina Settembre sono terminate. Dopo svariati mesi di attesa quindi, è arrivato questo annuncio, che ovviamente avvicina di più alla messa in onda della nuova stagione. Serena Rossi è confermata in qualità di protagonista, nei panni di Mina, mentre si ritroveranno anche tutti gli altri personaggi principali. Secondo le anticipazioni che iniziano a trapelare su Mina Settembre 2, per Gelsomina arriva l'attesissimo momento di compiere una scelta tra Claudio e Mimmo. L'assistente sociale ha spesso rimandato questo momento, non avendo ben chiari sentimenti, nei confronti dei due uomini. Claudio è il suo ex marito e, nel corso dell'ultima puntata della stagione precedente, ha dimostrato di volerla conquistare di nuovo. Mina provava dei forti sentimenti verso suo marito, ma in gioco c'è anche Domenico, un ginecologo affascinante e generoso, che la Settembre ha conosciuto da poco tempo. Già nelle prime puntate della seconda stagione, diventa evidente quale uomo ha rubato il cuore di Mina e perciò i telespettatori lo scopriranno prestissimo. Secondo qualche indiscrezione, ancora però da confermare, la scelta di Mina potrebbe ricadere su Domenico, detto Mimmo. Ricordando i problemi matrimoniali che c'erano stati con Claudio, ed in considerazione di ciò che prova, verso il ginecologo, Mina decide di fare la sua scelta, in questa direzione. La trama sull'indecisione della protagonista, quindi, dovrebbe passare in secondo piano, in questa nuova stagione. Per quanto riguarda il cast della seconda stagione, come abbiamo visto Mina Settembre, è stata confermata. Il ritorno di Giuseppe Zeno, che ha interpretato Mimmo nel corso della prima stagione, è ovviamente scontato. Non mancherà neppure Giorgio Pasotti, nei panni di Claudio, ex marito di Mina. Una grande novità di questa nuova stagione, però, è rappresentata dall'arrivo di Marisa Laurito. La celebre attrice napoletana sarà un'importante new entry nel cast, e vestirà i panni di una zia di Gelsomina. Questa donna, evidentemente, entrerà per qualche motivo, in maniera fissa nella vita di Mina. Non è chiaro, però, quale ruolo avrà, e se sarà una presenza completamente positiva, per la settembre oppure no. Per quanto riguarda gli altri membri del cast, non ci sono novità rilevanti, perciò si può ipotizzare che tutti i personaggi più importanti siano stati riconfermati. Invece sono già in molti a domandarsi, quando sarà possibile vedere su Rai 1, la seconda stagione di Mina Settembre. Nel corso del periodo, estivo vengono mandate in onda, le repliche della prima stagione, e questo potrebbe far pensare ad una nuova, messa in onda imminente. In realtà, l'unica certezza che si ha finora è che, essendosi concluse le riprese, Mina Settembre 2, andrà in onda durante la stagione televisiva, 2022 o 2023. Non è chiaro quale sarà il periodo dell'anno, ma è possibile immaginare che si scelga, l'autunno o l'inverno, quindi non molto dopo la fine, della trasmissione delle repliche. Appare improbabile l'ipotesi della messa in onda in primavera, ma al momento non c'è nessuna certezza. Nei prossimi mesi arriveranno notizie più sicure sui giorni in cui, sarà possibile vedere Mina Settembre 2. Voi che cosa ne pensate? Siete felici di vedere la seconda stagione di questa fiction, e che cosa vi aspettate? A voi i commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.